sidernet pellet certificato in sacchi da 15 chili a partire da 4 euro e 99 centesimi riscaldarsi costa meno e non fai fatica il gladiator lotta contro la torre si ritorna a fare punti dopo cinque sconfitte consecutive nello stadio mario piccirillo a santa maria capo a vetere condizionato dalla pioggia incessante i sassaresi si difendono bene dagli assalti dei padroni di casa e strappano un punto che di questi tempi è oro lo 0 a 0 finale è frutto di una partita spigolosa e con pochissime occasioni infatti solamente nel primo tempo ci sono le chance migliori per ambo le squadre per quanto riguarda il sassaricalcio latte dolce al termine di un match dominato dai sassaresi per 85 minuti pareggiano per 1 a 1 contro il sinti al balonga e sale a 11 punti in classifica all'iniziale vantaggio di cannas poi uscito per infortunio risponde angelilli che sfrutta una deviazione di patachiola e firma il pareggio nei minuti finali le due squadre provano a portare a casa i tre punti ma le difese non si fanno cogliere in preparate e il match termina senza variazioni noi siamo character ci trovi a sassari nella zona industriale predani e da alla strada 28 stampiamo su grandi formati dal 1996 siamo presenti e vicini allo sport e alle attività commerciali per la loro pubblicità con i nostri servizi al passo con l'innovazione tecnologica abbiamo scelto la cartotecnica digitale ecologica character partner ufficiale di canale 12 character i feel green